Ciao ragazzi, questo è il cast di LOL 4, come vedete c'era ancora budget raga, per il 4 c'era ancora budget Lillo, ma tu conosci qualcuno, di questi? Loris Allora, Diego e Frank si fanno i cazzi loro, c'è un piccolo brief tra il cast praticamente Guardate Fedez, spigliatissimo, è stato i riflettori, è la star della premiere di LOL, ha fatto Seratona E invece adesso vediamo anche cosa hanno fatto Leone e Vittoria, un po' più tranquilli del papà, sono rimasti a casa Hanno fatto una Mexican Dinner, ora ci arriviamo subito, prima ci becchiamo anche il dito medio di Fedez Ebbene sì, eccoli qua, Vittoria e Leone, vi saluto, ciao